Ragazzi buongiorno e benvenuti alla terza e ultima puntata del Crash Course sulla ricerca di bug di valore con Fabrizio. Ovviamente come voi avete capito questa sì è la terza e ultima puntata ma di questi tre piccoli episodi che sono usciti a febbraio 2024. Ce ne saranno altri che arriveranno in futuro e ci saranno anche altri coach review che arriveranno in futuro. Visto che comunque so che sono modalità di video che vi sono piaciute particolarmente. Quindi non temete non è l'ultimo episodio in assoluto. Detto questo chiaramente se vi siete persi gli altri due vi invito ad andare a vederli qua. Altrimenti io direi possiamo come sempre passare la parola a Fabrizio e vedere che cosa ha da dirci questa volta. Ciao Carlo. Oggi come di consueto guarderemo dei bug che sono stati segnalati nell'ultima training challenge. Ma voglio darvi qualche informazione in più perché oltre ovviamente all'importanza di farvi vedere quali bug vengono segnalati e anche quali sono quelli un po' più particolari. Voglio mostrarvi quelli che sono gli errori più frequenti che vengono fatti durante appunto le campagne di bug finding. Li guarderemo insieme. Vi farò vedere come risolverli in modo tale che risulti più facile evitare durante le campagne di commettere questi errori. Ma andiamo con ordine, cominciamo subito con il bug finding e dopo andiamo a vedere quelli che sono gli errori più frequenti e anche come evitare. Cominciamo con questo qua. Apriamo il website che abbiamo utilizzato nella training challenge che è stato Trainings USA e andiamo a aggiungere dei prodotti al carrello. Io vado nella tante prima di quello che è il carrello e prima di fare il checkout vado a cambiare la quantità del singolo prodotto. Quindi come potete vedere io sono passato da 2 a 4 e il prezzo non è cambiato automaticamente. A un primo acchitto questo potrebbe sembrare un bug diciamo medium high. Ma se io mi accorgo che nella parte bassa è presente la call to action update card posso cliccarci su e il carrello viene aggiornato. Tant'è vero che facendo così mi viene aggiornato il totale. In questo caso quindi non ci troviamo di fronte a un bug. Ma paradossalmente quella call to action non fosse visibile o non fosse correttamente funzionante ci troveremmo di fronte a un bug. Non può essere paragonato ad una severity high o medium perché nel momento in cui adesso passo da 4 a 6 non faccio update card ma faccio checkout. Il totale viene comunque aggiornato e io nel carrello mi ritrovo la quantità corretta. Quindi diventa un low nel caso in cui appunto non si dovesse vedere la call to action. Fate sempre attenzione quando andate a vedere i comportamenti se in pagina sono presenti appunto funzionalità che servono per in questo caso aggiornare il totale. Perché in quel caso non è un bug. Adesso vediamo un altro comportamento che a primo acchitto sembra appunto un bug. In questo caso vado appunto ad aggiungere un prodotto al carrello. Vado avanti per l'express checkout quindi l'acquisto veloce dove è già più o meno preimpostato il metodo di pagamento da utilizzare. In questo caso proseguiamo con ShopPay. E come vedete questo metodo di pagamento è legato al numero di telefono. Quindi mettiamo il numero di telefono. Facciamo tap su continua e come vediamo si presenta un captcha per autorizzare il pagamento. Dopodiché confermiamo il captcha e viene fuori un messaggio di ShopPay a Novelable. Quindi l'acquisto non è possibile portarlo a termine. Ovviamente se non siamo stati attenti questo è un bug perché appunto io sto cercando di pagare un acquisto e non va avanti. Torno di pochissimo indietro visto che stiamo parlando di un minuto di video. Quando abbiamo fatto il captcha dopo l'inserimento del numero di telefono abbiamo fatto tap su continua e è uscito un messaggio Too many attempts please try again later. Che cosa significa? Probabilmente abbiamo provato troppe volte questo comportamento e il prodotto digitale in questo caso il website ci ha bloccato. Questo è un comportamento assolutamente lecito da parte del prodotto digitale perché per evitare azioni continue che vanno ad appesantire quello che è il lavoro del server vengono appunto limitati. Quindi sempre proseguendo con questa avventura su quella che sia la ricerca di bug che eventuali anche errori che vengono commessi durante lo svolgimento delle campagne vediamo un altro di quelli che piace proprio soprattutto agli novizi che è giusto che facciano errori ed è giusto che partecipano alle trading challenge per ricevere le correzioni su quelle che sono magari appunto gli errori più comuni. Uno fra tanti i famosi allegati screencast e screenshot devono essere sempre presenti almeno uno per ogni tipologia che devono riprendere tutta l'area visibile del device, non una porzione tutta. Se ci troviamo su un desktop deve essere visibile la barra inferiore e la barra degli indirizzi del browser. Su uno smartphone deve essere appunto visibile tutta l'area del display. Quello che stiamo vedendo adesso è l'angolo in alto a destra del browser. Bene, per sottolineare dove si trova il bug è stato fatto il famoso ritaglio ma non è una cosa comoda semplicemente perché ricordiamoci sempre che tutto quello che noi facciamo poi viene presentato appunto al cliente che ha chiesto la campagna di bug finding e quindi mostrare pezzi o addirittura allegati con tratti grafici sopra è sbagliato perché in questo caso si vede che è un tratto grafico fatto a mano ma nel caso in cui fosse un bel tratto grafico, bello spadrato, potrebbe essere interpretato come quello un bug che si trova proprio in quella parte dell'area che si sta mostrando. Invece deve essere sempre ripreso così come se fosse dal vivo senza nessuna manipolazione ulteriore. Un altro errore comune è quello di usare il bug form per mettere più bug all'interno dello stesso bug form. Il bug form è praticamente il report di un bug. Non bisogna inserirne di più. Si possono inserire nei commenti aggiuntivi maggiori informazioni su dove eventualmente si ripete lo stesso bug ma deve essere lo stesso bug. Come abbiamo visto prima quando andavamo a cambiare la quantità nel carrello se io volessi riportare quello come un bug compilerei appunto il bug form indicando quello che ho fatto. Nel momento in cui vado a compilare quello che è il bug form andando a descrivere il comportamento mi devo fermare fino a quando non sono riuscito ad aggiornare la quantità. Non posso utilizzare il bug form per dire non solo non riuscivo ad aggiornare la quantità ma ad esempio cancellando un prodotto mi è cambiata la quantità di tutti perché quello sarebbe un secondo bug. Non posso utilizzare il bug form per appunto inserirne due. Vediamo l'altro errore quello veramente più comune che viene compiuto un po' da tutti ed è la complicazione errata del description step by step. La description step by step altro non è che quello che chi legge il report deve fare per poter arrivare al bug. Quindi gli step da replicare né più né meno. Io adesso vi leggo una descrizione e dopodiché vi faccio vedere il bug così vediamo se in effetti è coerente o meno e come si potrebbe scrivere correttamente. Apro la home page senza fare il login. Nella home e due paragrafi hanno titolo e bottone tagliato a metà. Ricaricare pagina ma titolo e bottone sempre tagliati a metà. Clicco sulla metà del bottone, è funzionante, mi apre la pagina nuova e leggo il titolo correttamente. Ritorno alla home page ma i titoli e bottoni rimangono visualizzati a metà. Il titolo del bug è home page lettura testo e la descrizione è difficoltà lettura testo titoli e bottoni learn more. Bene, vi leggo anche il risultato previsto e il risultato ottenuto. L'utente trovandosi nella home page dovrebbe visualizzare il titolo e il bottone non tagliati a metà da capire cosa è scritto, questo sarebbe il risultato previsto, quindi il comportamento corretto. Il risultato ottenuto è la visualizzazione errata dei titoli e dei bottoni che vengono tagliati a metà dal riquadro e creano difficoltà di lettura. Questa è la descrizione del bug. Bene, andiamo a vedere il bug e vediamo se poi ci ritroviamo perché sicuramente vi siete fatti un'idea di quello che è il bug, ma magari non l'avete ancora realizzato. Mi trovo nell'home page, faccio uno scroll down, arrivo alla pagina welcome to findings dove è presente un carosello, faccio uno swipe orizzontale delle schede fino ad arrivare alla terza scheda dove noto che è presente un testo tagliato nella parte superiore e inferiore e la call to action in basso che è difficilmente visibile. Questo è il bug, quello che vi stavo raccontando è proprio la description step a step. Il titolo sarebbe home page, quindi dove si trova il bug, si trova in home page e cos'è il bug. La terza scheda del carosello, welcome to findings, mostra parzialmente il testo e la call to action learn more. Questo sarebbe il titolo, comportamento previsto, corretta visualizzazione del testo e della call to action learn more, comportamento ottenuto, quindi il bug, il testo è parzialmente visibile nella parte superiore e inferiore e la call to action non si vede completamente, si vede soltanto il bordo superiore. Se proprio vogliamo essere completi ma possiamo essere anche molto più semplici nella descrizione e quindi ancora più facile. Il testo nella scheda del carosello welcome to findings risulta tagliato, titolo, bello, semplice e lineare. Descrizione step a step. Aprire home page, scorrere in basso fino alla sezione welcome to findings, scorrere il carosello per verificare che i testi e le call to action siano visualizzati correttamente. Semplice e lineare, quello che raccontereste a chiunque per dirgli replica il bug. Tutti i testi e le call to action sono visualizzati correttamente, sarebbe il comportamento corretto, il comportamento invece è del bug. Nella terza scheda il testo è tagliato e la call to action learn more non è visibile. E possiamo anche non usare termini specifici come call to action, come swipe, come scroll down. L'importante è trasferire gli step e descrivere quello che ci aspettavamo con un comportamento normale e invece notiamo con il comportamento del bug. E un'altra cosa importante, se gli step fossero stati due, non lasciate il terzo punto, toglietelo. Idem se sono cinque, aggiungete il terzo, il quarto e il quinto. Paradossalmente poteva essere soltanto apro l'home page e non si apre quindi uno step. Apro l'home page. Quindi quando compilate il bug form, con molta semplicità, ricordatevi sempre che chi leggerà quel bug form deve capire cosa avete fatto e deve capirlo ancora meglio guardando gli allegati. Non significa con questo che se mettete poche informazioni vi viene rifiutato, ma sicuramente potrebbe andare in review e quindi vi viene chiesto ulteriore tempo per correggere quella revisione in modo tale che poi venga o approvata o rifiutata perché magari appunto il travel leader non ha compreso l'ambito e quindi ha bisogno di ulteriori informazioni. Grazie Fabrizio di tutto il tuo contributo sia in questa puntata che nelle altre due ancora una volta. Come sempre ragazzi, se volete aggiungere qualcosa, richiedere chiarimenti, fare domande, quello che volete, lasciatemi un commento, è la via più veloce e verranno poi mandate Fabrizio che risponderà a me ed io inoltre la risposta a voi. Io ragazzi spero che vi sia piaciuto tanto quanto gli altri crash course che avevamo fatto quindi mi raccomando iscrivetevi al canale così da non perderveli e soprattutto da non perdere anche i prossimi video che arriveranno nelle prossime settimane. Per ora direi che possiamo fermarci qua e quindi direi alla prossima settimana.